Ciao ragazzi, non bevete, non fate furbi, non pensate di essere più furbi degli altri perché a volte uno dice, ma io bevo tanto non succede niente e invece può succedere poi ci sono incidenti, c'è un sacco di cose e poi c'è anche chi acculo chi acculo tipo me c'è da fare un sacco di fogli ragazzi ti levano la patente c'è da fare il certificato anannestico c'è da fare l'esame del capello c'è da fare l'esame del sangue c'è da andare al CERTA a fare tutto il percorso poi per cosa? per avere un po' più di 0,80 di alcol nel sangue guardate Graziano Salvadori, eccolo qua ora per tre mesi sono senza patente quindi non fate come me non bevete non bevete, non conviene ragazzi o avete culo vi fanno la multa e basta o sennò vi fate anche male non bevete io non bevo più giuro non tocco più niente ciao non fate le teste di alcol come me grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti